vediamo se ci siamo ok dovremmo esserci qualcuno mi conferma che si sente tutto perfetto ok allora buonasera a tutti ci ritroviamo a fare un aperitivo digitale riprendiamo un po' il buonasera Davide riprendiamo un po' il discorso di venerdì scorso ciao Andrea se vi siete persi il video di venerdì scorso che era sempre sul tecnico lo trovate sulla pagina Facebook o sul canale YouTube di Ambience anche in questo caso invieremo il ciao Walter ciao Vincenzo invieremo il video anche sul sul canale YouTube quindi poi ve lo potete rigustare con calma quando volete allora quindi anche oggi un webinar tecnico parleremo di interazioni quindi in sostanza andremo a vedere come molto facilmente il plug-in ATXplore ci permette di aggiungere interazioni all'interno di una scena la scena che useremo è una scena ciao Gianni è una scena che abbiamo pubblicato su uno store interno di Ambience quella che vedete è una scena che comprende sostanzialmente tutto l'arredo i materiali e le impostazioni di illuminazione di un ufficio moderno diciamo per questa scena ci siamo sbizzarriti e abbiamo deciso anche di prevedere una sezione modulare di edifici da mostrare fuori dalla finestra in sostanza al posto di usare il classico skybox che si inserisce come esterno delle scene delle scene in realtà virtuale o in real time ciao Anna Chiara ciao Nicoletta abbiamo inserito all'interno dell'asset anche questo sistema modulare che è sostanzialmente una serie di piani con delle immagini rimodellate con l'inserimento delle riflessioni dei vetri delle degli edifici circostanti in questo modo si ottiene un intorno dell'ambiente virtuale un pochettino più contestualizzato un po' più animato volendo si possono inserire delle persone all'esterno che passeggiano degli audio o insomma un po' più viva la la scena in questo modo la scena è disponibile sul store di ambience adesso dalla regia invieranno il link se siete interessati c'è un codice sconto per il 60% se non sbaglio per acquistarla adesso nella scena è compresa sia quindi si scarica sostanzialmente un pacchetto che comprende sia la scena sia una versione del plug-in ATXplore basilare che però permette di creare le interazioni che vedremo oggi quindi le interazioni abbastanza basilari come il movimento di camera compatibile sia in 360 iPhone iPad Android VR eccetera eccetera sia tutte le interazioni di cambio materiali e di apertura e chiusura delle porte all'interno dell'ambiente quindi il risultato che andremo ad ottenere oggi è una applicazione come abbiamo detto la scorsa volta questo tipo di di presentazioni nonostante siano graficamente accattivanti danno il meglio al runtime quindi l'output di questo tipo di presentazione sarà sempre un'applicazione che possiamo far girare su un computer ciao Alessandro su un computer su uno smartphone o su un visore di realtà virtuale e l'ambiente è completamente è completamente navigabile e quindi si tratta effettivamente di un applicativo quindi non abbiamo né un'immagine né un video statico è direttamente chi sta visualizzando l'ambiente che decide dove andare cosa vedere eccetera l'output quindi sarà una cartella di questo tipo con un'applicazione quindi proprio un vero e proprio eseguibile una vera e propria applicazione che possiamo tranquillamente mettere su una chiavetta e portare dal cliente o inviare via WeTransfer e in particolare vediamo un attimo l'output si tratta di un'applicazione dove è possibile muoversi molto probabilmente voi vi vedrete a scatti perché il video non è proprio in tempo reale però si vede molto fluidamente e in questa applicazione abbiamo inserito una serie di scelte di colorazioni per questa parete oppure per il parquet che si trova all'interno dell'ambiente principale quindi si può cliccare sulle handle e selezionare l'altra l'altra tipologia di parquet da mostrare al cliente oltre a questo sempre nel pacchetto trovate una sorta di televisore già funzionante e quindi c'è anche la possibilità di capire come si possono visualizzare i video all'interno degli ambienti in VR e le altre interazioni che andremo ad inserire saranno interazioni di apertura e chiusura delle porte tutto il movimento all'interno dell'ambiente e quindi in sostanza andremo a vedere queste tipologie di interazioni quindi andando a generalizzare il cambio di materiali all'interno il cambio di materiali su una determinata mesh su un determinato modello 3D questo tutto a runtime e la rotazione di un elemento tridimensionale parlo di rotazione perché in generale è astratto come concetto poi lo possiamo applicare tranquillamente alle porte alle finestre oppure a sportelli o a cassetti quando parliamo di traslazione invece che di rotazione quindi rifacciamo una brevissima panoramica su sull'interfaccia di unity in sostanza quello che vedete qui in questa zona in alto è la schermata scene che permette di avere una preview di quello che sarà l'ambiente finale in questa schermata scene noi possiamo editare la scena quindi abbiamo una zona di editing della scena nella schermata che vedete qui in basso che è nera abbiamo invece la preview della scena quando andremo a runtime quindi quando effettivamente creeremo l'applicazione l'output della nostra presentazione possiamo far partire una preview senza fare la build quindi senza creare l'applicazione possiamo far partire una preview all'interno dell'editor premendo il pulsante play quindi premendo il pulsante play otteniamo una visualizzazione in preview di quello che poi sarà effettivamente l'applicazione però ovviamente l'output è effettivamente l'applicazione perché immaginate di inviarlo ad un cliente il cliente non può avere Unity installato quindi non inviate il progetto Unity ma inviate l'output del progetto che è appunto un'applicazione quindi andiamo a vedere scena quindi schermata di scena schermata di game qui abbiamo l'inspector dove possiamo visualizzare le informazioni degli oggetti che si trovano all'interno della scena abbiamo una hierarchy di progetto che è sostanzialmente la gerarchia di tutti gli oggetti che sono all'interno della scena e poi una cartella assets che contiene tutti gli asset del progetto gli asset del progetto questa è una cosa fondamentale che a volte venendo dal mondo dell'architettura il progetto Unity non è un singolo file ma è una cartella di file tutte le texture tutti gli asset tutti i modelli 3D che devono essere utilizzati all'interno del progetto Unity devono essere inseriti all'interno della cartella assets all'interno della cartella di progetto quindi il progetto di Unity è una cartella all'interno di questa cartella vedete che ho già installato il pacchetto modern office che si trova sullo store e questo pacchetto mi mette a disposizione questa scena preconfezionata con tutte le informazioni di illuminazione eccetera e nell'altra cartella che vedete qui trovate la cartella del plugin ATXplore che andiamo a vedere immediatamente il plugin ATXplore si manifesta all'interno del progetto tramite una finestrella che si apre su Tools Ambience Art Toolkit ATXplore e la finestra visualizza tre tab principali la prima tab Scene permette di settare tutte le impostazioni di movimento e di build della della scena dell'output dell'applicazione e quindi possiamo settare la velocità di movimento la velocità di salita su su e giù quando si ha una flycam quindi quando si può quando si decide che nella visualizzazione si può volare la velocità di rotazione sul mouse con il mouse la velocità di rotazione nel caso di touchscreen e il touchscreen funziona sia su pc quindi pc dotati di schermo touch sia su tablet e smartphone android ios e le velocità di corsa di corsa quindi premendo shift il plugin permette di muoversi più velocemente in basso troviamo le opzioni di visualizzazione e qui possiamo scegliere se supportare la VR se far partire la scena in flycam oppure in modalità classica quindi si cammina sostanzialmente ad altezza uomo all'interno dell'ambiente e possiamo scegliere facilmente la piattaforma di output e quindi possiamo passare su pc in questo caso e quindi l'output sarà uneseguibile oppure possiamo scegliere di lavorare su android ios o mac e quindi di conseguenza unity creerà un'applicazione per quel sistema operativo quindi la prima tab ci permette appunto di scegliere le opzioni di movimento all'interno della scena e automaticamente queste opzioni vengono settate per tutte le piattaforme diciamo che il problema principale che il plugin risolve una volta che uno si vuole buttare in questo mondo del real time rendering è avere un unico punto di accesso per tutti gli script possibili per tutte le piattaforme quindi con queste opzioni stiamo settando l'output stiamo settando le opzioni dell'output dell'applicazione che saranno comuni a tutte le piattaforme che andiamo a targettizzare quindi pc android ios eccetera il secondo pannello invece contiene le interazioni quindi tramite questo pannello e selezionando gli oggetti all'interno della scena possiamo aggiungere le interazioni a quell'oggetto stesso in particolare se seleziono ad esempio questa porta ora rimuovo l'animazione che abbiamo visto precedentemente posso selezionare la porta aggiungere la rotazione semplicemente premendo il pulsante rotate automaticamente lui considera che questa è proprio per una questione di uso classico lui considera che abbiamo aggiunto questa animazione ad una porta e quindi prende uno dei due assi verticali e aggiunge una rotazione di 90 gradi con il verso indicato da questa freccia in sostanza già così abbiamo realizzato una porta che funziona tranquillamente su tutti i dispositivi sia se l'applicazione deve essere visualizzata con mouse e tastiera su un pc sia in VR sia su touch screen Android eccetera ora l'asse di rotazione di questa porta non è proprio quello ideale perché l'asse di rotazione è quest'altro e quindi possiamo modificare l'asse di rotazione premendo direttamente i pulsanti che troviamo negli Spector in sostanza questa tab interaction cambia a seconda dell'oggetto che abbiamo selezionato quindi da un lato se non c'è un'animazione attaccata all'oggetto il pannello interaction ti permette di aggiungere l'applicazione aggiungere l'interazione se invece selezioniamo un oggetto che ha già un'interazione ti permette di modificare l'interazione andando a settare questi parametri direttamente tutti gli script che normalmente servono per fare questo tipo di interazione sono stati già realizzati quindi basta includere il pacchetto e si può utilizzare direttamente dall'interfaccia tutte le interazioni quindi in particolare l'inspector dell'animazione di rotazione permette appunto di settare il pivot diciamo l'asse di rotazione dell'oggetto premendo appunto up nel caso ad esempio di pannelli di una cucina left right per settare appunto la rotazione oppure down nel caso ad esempio di un pannello della cucina in basso ad esempio della lavastoviglie e poi ci sono una serie di informazioni che nel caso della porta sostanzialmente non serve toccarle ma ci danno una libertà ulteriore nel caso in cui volessimo creare delle animazioni concatenate delle animazioni un po' più complicate in particolare possiamo scegliere cos'è quale azione dell'utente fa partire questa animazione e nel caso delle porte e dei pannelli sostanzialmente l'azione dell'utente è click sulla porta o sul pannello e quindi in sostanza si auto setta allo starting mode on click è possibile scegliere se far partire un loop dell'applicazione quindi non deve mai fermarsi l'interazione l'animazione e la tipologia di loop ora nel caso di una porta quando apriamo la porta questa deve ruotare nel verso della freccia e in questo caso vogliamo che giri dall'altro lato quindi gli angoli di rotazione che qui sono settati a 90 li settiamo a meno 90 in questo modo la freccia automaticamente nell'editor ci mostra quale sarà l'angolo di rotazione e in questo con questa opzione loop type scegliamo come l'interazione deve comportarsi nel caso in cui l'utente riclicca sulla interazione quindi se in questo caso e nel caso delle porte se clicco la prima volta si apre verso il verso che abbiamo che abbiamo deciso se clicco una seconda volta deve tornare indietro quindi inverte il verso della rotazione e questa è la modalità ping pong invece invece le altre modalità loop eccetera continuano a ruotare a far partire l'animazione sull'oggetto continuando il verso di rotazione ora tutte queste opzioni sono settate in automatico per il caso classico delle porte degli sportelli quando aggiungiamo appunto un'interazione di rotazione sopra gli oggetti ma volendo uno le può cambiare quindi ad esempio se settiamo on start la interazione o meglio la rotazione quindi l'animazione sopra all'oggetto parte senza aspettare il click dell'utente e in questo caso non è per niente il caso di far partire una porta senza un'interazione però potrebbe essere il caso ad esempio di dei pale che devono girare sempre quindi in quel caso le pale devono ruotare in continuazione si può settare la modalità di partenza on start quindi partono quando si preme play oppure si fa partire l'applicazione e vanno in loop e di conseguenza le pale o una girandola o qualsiasi cosa che vogliamo rendere animata continuano la rotazione per sempre sostanzialmente quindi continua la rotazione in loop quindi nel caso della della porta basta cliccare sull'oggetto e basta cliccare sull'oggetto e la porta si apre e si chiude perché appunto c'è l'animazione di ping pong Anna sì si può fare e non lo vediamo nel corso di questo webinar ma lo vediamo venerdì prossimo la data è ancora da definire però molto probabilmente venerdì prossimo e si può fare tramite un un'aggiunta che abbiamo fatto al plug-in da da poco che permette di creare animazioni completamente personalizzate mentre in questo caso sostanzialmente scegliamo le impostazioni dell'animazione di rotazione a partire da quelle standard che abbiamo inserito nell'interfaccia con l'altro metodo che abbiamo chiamato animation system possiamo scegliere qualsiasi pezzo dell'animazione quindi nel caso di voglio che si apra quando la persona si avvicina si può fare una zona di trigger che fa partire una sequenza di animazioni e tra le animazioni che si possono inserire c'è anche la rotazione quindi in sostanza si si può fare però è una cosa un pochettino più avanzata qui volevo dedicare proprio un'oretta perché volevo anche preparare una scena un pochettino più sandbox quindi con varie animazioni che possiamo creare senza avere limiti di una scena grafica diciamo architettonica e con questo metodo si possono fare praticamente tutte le interazioni che vogliamo abbiamo creato interazioni di teletrasporto quindi di ascensore tra un piano e l'altro abbiamo creato animazioni di cambi materiali su più oggetti contemporaneamente abbiamo creato animazioni di cambi oggetti quindi quella metodologia ti permette di uscire fuori dall'interfaccia basilare che ti fornisce il plugin e ti dà ancora più libertà quindi risposta a breve sì è possibile tramite questo sistema grazie ciao Ercole ciao Ercole quindi abbiamo visto l'interazione di apertura e chiusura delle porte adesso vediamo il cambio materiali allora il cambio materiali ha una modalità differente di trigger di partenza dell'interazione mentre qui con la porta clicchiamo su un su un oggetto per far partire l'animazione con il cambio materiali abbiamo pensato nel corso degli anni che è sconveniente far partire l'animazione cliccando sul pavimento quindi abbiamo pensato di creare appunto un'icona per indicare che cliccando su quell'icona possiamo far partire quella interazione e quindi l'interazione di cambio materiali come altre animazioni si setta tramite una handle quindi un'icona che si inserisce all'interno dell'ambiente l'icona è semplicemente una un file png che si include all'interno del progetto al solito il plugin ATXplore ti permette di creare l'interazione più velocemente possibile quindi automaticamente ti setta questa icona ma se la volessimo cambiare basta selezionare nel componente dell'icona e includere il png all'interno del progetto quindi se ad esempio ora questa non c'entra niente però la possiamo cambiare tranquillamente con un'altra icona quindi l'animazione di cambio dei materiali parte quando l'utente clicca sulla handle su questa cosa ci ritorneremo poi venerdì prossimo perché questa distinzione clic su un oggetto clic su una handle è proprio divisa diciamo scorporata dall'interfaccia nel sistema di animazioni avanzato che permette appunto di creare interazioni completamente personalizzate e in questo caso quindi allora andiamo a rivedere in play che cosa succede quando clicco sulla handle del cambio di materiali clicco di nuovo con la tastiera premendo shift accelero ma immagino che la fluidità dello stream non sarà proprio così e cliccando sulla handle e quindi l'icona diventa gialla e cliccabile diciamo indica che l'oggetto è cliccabile clicchiamo sulla handle e si visualizza questa finestra dove si visualizza in alto un testo che decidiamo dal pannello di ATXplore e in basso le icone che identificano il materiale che vogliamo applicare quindi cliccando sul materiale cliccando sul materiale questo materiale viene applicato a questa mesh e quindi possiamo tornare indietro vediamo come funziona per applicare un'interazione di cambio dei materiali basta appunto entrare nella tab interazioni cliccare sull'oggetto a cui vogliamo applicare questa interazione e cliccare su switch material switch material automaticamente riempirà una lista di opzioni di materiali che possiamo andare a personalizzare ovviamente e cliccando sul più che troviamo qui possiamo aggiungere opzioni da mostrare al cliente di default la finestrella che esce mostra tre opzioni e poi due freccine a destra e a sinistra per diciamo impostare una sorta di paginazione tra le opzioni ovviamente se più opzioni settiamo e più diventa pesante scegliere quindi il consiglio di non esagerare con le opzioni quindi 4-5 opzioni massimo e il testo che inseriamo in questa interfaccia viene visualizzato sulla finestrella della scelta l'icona viene settata automaticamente dal plugin basta fare apply e l'interazione è stata inserita sul pavimento e la cosa può essere applicata sostanzialmente a qualsiasi superficie quindi qualsiasi oggetto che vediamo nella scena che ha un componente di mesh renderer può essere diciamo targettizzato come elemento dove possiamo attivare questa interazione ora dove possiamo far attivare questa interazione altre possibilità che ci dà il pannello sono la possibilità di creare delle animazioni di traslazione quindi al posto di ruotare su un asse ci permette di traslare un oggetto su un asse anche qui l'animazione di default parte on click perché è pensata per l'animazione di cassetti sostanzialmente però può essere applicata a qualsiasi ambito quindi una serranda che si alza e si abbassa o cose del genere invece l'animazione draggable permette di aggiungere la possibilità di prendere un oggetto e spostarlo in questa scena qui non lo aggiungiamo perché la scena è stata è stato fatto il calcolo delle luci e quindi spostando un oggetto in questo caso se sposto una sedia l'ombra resta sotto l'oggetto e questo è oggetto di vari corsi che facciamo sicuramente ne parleremo anche online in sostanza visto che l'output è un'applicazione che deve refresciare deve creare un'immagine 60 immagini al secondo idealmente è necessario salvare alcuni calcoli e quindi in alcuni casi l'ombra calcolata in un certo modo viene salvata come se fosse un lenzuolo spalmato sopra gli oggetti ma sicuramente ne parleremo più in là altre cose che abbiamo visto quando siamo andati in play in particolare la creazione di un video in questo caso si utilizzano in maniera banalissima i componenti di Unity quindi sono il video player è un componente già all'interno di Unity e e quindi si può tranquillamente inserire all'interno della scena utilizzando le funzionalità già offerte da Unity ovviamente il procedimento è un pochettino più complicato però ve lo volevo far vedere in sostanza come funziona il video player il video player è un componente che si aggiunge a uno degli oggetti all'interno della scena e funziona in questo modo vediamo qua video player si aggiunge il componente video player facendo così add component video player si deve inserire necessariamente una una clip video quindi in questo caso un mp4 all'interno del progetto il video player non farà altro che caricare questo video e salvare per ogni frame per ogni frame l'output del video quindi il frame del video su una texture quindi praticamente il video player che cosa fa? non 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 proietta direttamente il video ma prende il video vede il frame attuale e lo salva su una texture questa texture viene utilizzata dal materiale del del televisore quindi in sostanza al posto di inserire il materiale dei mattoncini o il materiale del parquet il televisore visualizzerà la texture che viene scritta di volta in volta dal video player quindi il video player può anche funzionare in altri modi però in questo caso visto che la stessa texture viene utilizzata da questi quattro e da quest'altro qui da quest'altro schermo abbiamo pensato di inserire inserire questa funzionalità in questo modo quindi in sostanza il video player legge il video scrive la texture e la stessa texture viene inviata sul sul materiale dei vari oggetti che vogliono utilizzare la stessa texture qualche domanda Alberto qual è la differenza tra i comandi translate e draggable nel pannello interaction allora mentre translate setta un movimento per un oggetto dal punto A al punto B draggable permette all'utente di spostare l'oggetto dove vuole quindi in sostanza si clicca sull'oggetto e si muove l'oggetto dove vogliamo praticamente quindi il translate è per una interazione per un movimento che deve andare dal punto A al punto B quindi in un cassetto se clicchiamo sul cassetto il cassetto va avanti fino ad un tot nel nel dragable invece si può utilizzare ad esempio per una sedia si clicca sulla sedia e la si sposta su un altro punto dell'ambiente Gianni essendo il primo video che vedo esiste un video iniziale per capire meglio il programma in generale abbiamo fatto un video lo scorso venerdì che trovi su sul canale YouTube di Ambience e sulla pagina Facebook dove facevamo vedere come si importa un progetto da Revit utilizzando un altro dei prodotti della suite che proponiamo a T-Sync che sincronizza le geometrie i materiali e i dati da Revit a Unity sì sicuramente andremo avanti sulla cosa se avete dubbi perché quando si passa dal render classico a questo tipo di render i dubbi sono tantissimi scriveteli tranquillamente nei commenti che noi riceviamo e eventualmente faremo un webinar ad hoc su questa cosa Anna Chiara si può spegnere e accendere la tv? Allora si può fare con il sistema che vedremo venerdì prossimo si può sostanzialmente ci sto pensando adesso si può premere su un pulsante e spegnere un altro oggetto quindi spegnere proprio fisicamente così si può disattivare un oggetto se quello spegnimento si applica sul video player si può spegnere la la tv questa è una modalità la seconda modalità potrebbe essere applicare un cambio materiali alla televisione quindi la tv accesa è il materiale questo qui che automaticamente si prende la texture del video player la tv spenta è un materiale tipo questo qui quindi è semplicemente un materiale plastico nero leggermente riflettente quindi si può fare si può fare tramite il il cambio materiale forse è la modalità migliore ok 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 Gianni se hai qualche domanda nello specifico dimmela che abbiamo ancora una quindicina di minuti quindi vediamo quali passaggi fare una volta che abbiamo creato questa applicazione allora abbiamo detto che l'output sarà un'applicazione quindi un eseguibile in sostanza l'output viene inserito può essere inserito all'interno di una cartella e tutti tutti i file di questa cartella devono essere inviati al cliente per per poter far partire l'applicazione e in sostanza possiamo arrivare a creare la build dove è possibile acquistare il vostro plugin dalla regia si può inviare se si possono inviare i link posso utilizzare un modello fatto con un altro programma io uso SketchUp una volta fatto dovrò inserire tutte le luci si può importare il modello a SketchUp sì allora da SketchUp Unity ha un import diretto quindi se portate il file SketchUp all'interno della cartella Unity il modello viene importato il problema con i file SketchUp non è tanto i file SketchUp in sé quanto il 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 warehouse quindi dove si scaricano i modelli ricordiamo sempre questo qui a differenza della creazione di un'immagine qui si creano 60 immagini al secondo cioè l'ideale sarebbe creare 60 immagini al secondo e adesso io sono su un portatile ma potrei inviare questa stessa scena anche su un Macbook che non ha una scheda video potente dobbiamo fare in modo che il computer target diciamo non viene affaticato dagli oggetti che inseriamo in scena e più poligoni abbiamo più affatichiamo il computer quindi il problema più grande dei file da SketchUp sono appunto i file che importiamo dal warehouse che non sono pensati per essere utilizzati all'interno di un engine in real time e quindi potrebbe essere necessario modificare alcuni elementi in particolare tutto ciò che riguarda piante vestiario tessuti eccetera eccetera tendono ad essere estremamente poligonali e quindi estremamente pesanti quindi quando lavoriamo in real time dobbiamo avere un occhio di riguardo sulla quantità di poligoni che andiamo a visualizzare all'interno della scena e non serve che ve lo assicuro nel senso ci sono decine di tutorial tecniche per ottenere lo stesso risultato grafico diminuendo i poligoni e lavorando sulle mappe quindi in sostanza mentre per la generazione di un'immagine classica diciamo di un render offline Vray Corona eccetera eccetera la quantità di poligoni è vista diciamo la qualità del modello è proporzionale alla quantità di poligoni in questo caso è il contrario quindi meno poligoni ci sono e più mappe insomma si può ottenere un buon modello un buon modello 3D con pochi poligoni quindi sì si può tranquillamente lavorare su SketchUp il consiglio che diamo noi nei nostri corsi è quello di lavorare su SketchUp principalmente per la struttura e poi i modelli aggiungerli tramite asset che sono stati pensati per il render real time e quindi per esempio questo ci sono tantissimi asset sugli store i prezzi di questi asset non sono minimamente comparabili ai prezzi degli asset per il render offline potete dare uno sguardo all'asset store altre domande per le luci sì principalmente sì si devono quantomeno riempostare un pochettino sugli uniti perché magari SketchUp ha un determinato tipo di luci oppure abbiamo utilizzato delle luci che vanno bene a V-Ray e quelle impostazioni ovviamente non vanno bene per Unity Simone ciao Enno come possiamo invece creare nuovi materiali nuovi materiali si creano in questo modo si va sulla cartella asset si clicca su create fa material e qui abbiamo creato un materiale quindi lo possiamo chiamare parquet questo è un nuovo materiale al materiale vanno associate sostanzialmente delle texture albedo diciamo è la texture base del colore del materiale e possiamo tranquillamente scegliere una texture che abbiamo già importato all'interno del progetto e quindi per esempio questo e questo è il nostro materiale se questo materiale lo prendiamo e lo mettiamo su un oggetto in scena abbiamo trasformato la scrivania da bianca a una scrivania di legno che tra l'altro non è neanche così tanto male ci mandate il link con lo sconto quindi ci sono problemi anche con i modelli di arredo 3ds importati direttamente dai siti la domanda di Fabrizio potrebbero esserci questi problemi sostanzialmente quello che succede spessissimo è che il il modello 3d che scarichiamo da direttamente dal sito del produttore contiene due milioni di poligoni questa scena credo che sia sotto i 100.000 poligoni 200.000 poligoni poi vi manderò nei commenti il numero di poligoni quindi diciamo che c'è un dilemma o uno si ottimizza la libreria che già si è fatto oppure ripeto si va sulla set store si cerca archviz e vi posso assicurare adesso ci sono anche gli sconti che con 15-20 euro si prende un pacchetto completo con 90-100 modelli 3d e materiali ottimizzati per questa tipologia di render prezzi che non hanno nulla a che vedere con i prezzi normali dei modelli 3d che si trovano sugli altri siti eventualmente la vegetazione si può aggiungere direttamente da Unity sì anzi conviene utilizzare la vegetazione di Unity se non è fondamentale avere tutti gli asset all'interno del progetto ad esempio SketchUp conviene sempre lavorare la struttura su SketchUp quindi quello che serve effettivamente poi per il progetto su SketchUp o su un altro software di modellazione è tutto quello che sappiamo essere problematico come possono essere appunto tessuti e piante se non siamo sicuri che quel modello 3d è già ben ottimizzato per un motore real time noi qui adesso parliamo di Unity ma possiamo parlare di Unreal di Godot di Unigine di qualsiasi motore real time conviene non metterlo per niente nel modello 3d e poi utilizzare direttamente degli asset di librerie che ci siamo creati per quel motore specifico allora si può andare su assetstore punto vediamo un attimo ecco qui assetstore di Unity si cerca Archviz e ci sono una serie di scene tra l'altro in sconto che contengono tutto quindi come il pacchetto questo qui dell'ufficio che stiamo che abbiamo messo adesso con il codice sconto contengono tutto quindi contengono sia i modelli tridimensionali già ottimizzati sia i materiali sia cosa non banale le impostazioni per l'illuminazione che già quello fa parecchio i modelli che vendete a 30 euro sono modelli applicabili anche su Max allora in sostanza sì perché allora vediamo un attimo la cartella la cartella con i modelli ad esempio questa sedia possiamo cliccare questa avr office chair in realtà è un file fbx che può essere importato anche in un in un motore di render classico e diciamo la differenza qui sostanziale la fanno le mappe quindi con le mappe si aggiungono dei dettagli che normalmente vengono aggiunti con i poligoni e quindi imperfezioni del materiale o riflessioni o fondamentalmente le imperfezioni del materiale vengono aggiunte tramite le mappe e come potete vedere tolgo questo come potete vedere il numero dei poligoni della della sedia è molto basso e vi posso assicurare che lo stesso modello poi utilizzato in un motore di render offline comunque ci dà dei benefici quindi caricare una sedia da in questo caso quanti poligoni abbiamo 400 600 poligoni vediamo un po' ecco 2000 poligoni per una sedia rispetto a caricarne una da 2 milioni di poligoni vedete che la differenza cioè il computer ringrazia comunque quando si va a lavorare anche su 3D studio quello che vogliamo insomma Vincenzo come detto ok Vincenzo le luci si impostano con i comandi di base di Unity oppure con la vostra plug-in ci sono delle opzioni mirate allora attualmente non è possibile o meglio non c'è una maniera come dire logica di settare automaticamente le luci cioè è possibile farlo sto parlando di programmazione quindi di funzionalità che possiamo aggiungere al plug-in so che diciamo un uccellino mi ha detto che qualcosina sta succedendo da quel punto di vista e quando succederà sicuramente aggiungeremo la funzionalità il plug-in a Txplore si concentra attualmente sull'inserimento delle sull'inserimento delle interazioni e appunto la creazione dei movimenti di camera che funzionano su tutti i dispositivi quindi questo è il focus attualmente del plug-in non tanto creare una scena bella quanto aggiungere le interazioni ad una scena sicuramente andremo ad aggiungere ulteriori funzionalità come il salvataggio di profili di illuminazione o l'inserimento automatico di luci nel caso di finestre e cose del genere la licenza di Unity è gratuita la licenza di Unity è gratuita per entità che fatturano meno di un x mila euro l'anno ed è gratuita questa è la versione free la versione free permette di fare sostanzialmente qualsiasi cosa si può fare sulla versione pro tranne rimuovere il logo Unity che esce quando facciamo play su una scena quindi questo per capirci questo qui questo logo qui non si può rimuovere nella versione free in generale ha una licenza con delle restrizioni ovviamente un'altra caratteristica della versione free è che non si può settare il tema scuro come quello che ho io adesso per l'affaticamento degli occhi insomma quindi in sostanza Unity di base la versione gratuita ha tutte le funzionalità per gli studenti c'è grazie Valerio per gli studenti c'è la versione pro plus ad accesso gratuito quindi con le altre funzionalità che mancano alla free e tutta l'accesso alle risorse di learn gratuito per gli studenti quindi tornando a noi vediamo pochissimi minuti arriviamo a creare l'applicazione allora l'applicazione si diciamo la build si arriva a crearla dal menu file build settings qui possiamo scegliere le scene da visualizzare in un progetto ci sono varie scene possono esserci varie scene che possono fungere da una scena per piano oppure una scena che è il menu principale dove si può scegliere dove andare insomma si possono fare una miriade di cose si inserisce la scena da buildare da inserire in build e premendo il pulsante build si sceglie la cartella e Unity andrà a riempire a a calcolare il pacchetto di build per questa piattaforma la piattaforma che abbiamo scelto in questa in questa build è piattaforma windows ma possiamo scegliere anche le altre piattaforme e quindi creare applicativi per altre piattaforme dalla schermata player settings invece adesso vediamo un attimo possiamo personalizzare l'aspetto della build quindi ad esempio andiamo in player settings facciamo risvegliare un attimo il computer e layer settings qui possiamo decidere il nome dell'azienda che compare proprio sull'eseguibile il nome dell'applicativo che stiamo che stiamo creando la versione perché possiamo lavorare con la versione l'icona quindi anche l'icona dell'applicazione possiamo scegliere quindi questa qui è quella di default di unity ma possiamo personalizzarla possiamo scegliere se creare l'applicazione che parte full screen oppure come finestra ridotta possiamo scegliere tantissime cose e qui possiamo personalizzare le icone che vengono visualizzate quando parte dell'applicazione quindi nel caso nel mio caso che ho la unity plus posso rimuovere il logo unity e aggiungere degli altri loghi nel caso della free si possono aggiungere loghi all'applicazione poi qui ci sono tutta una serie di impostazioni la qualità grafica impostazioni di audio di fisica eccetera eccetera che sicuramente andremo a vedere con un'altra con un'altra con un'altra live benissimo sono le 19 possiamo possiamo chiudere qui se non ci sono altre se non ci sono altre domande aspettiamo un secondino quindi vi ricordo seguite la pagina facebook per avere informazioni sui prossimi webinar che ci saranno se avete domande potete continuare anche a scrivere tra i commenti del video oppure scriverci in chat direttamente su facebook lo sconto lo sconto non è stato inviato lo sconto dovrebbe essere stato inviato lo sconto c'è uno sconto allora vediamo un po' vediamo un po' dalla regia non l'hanno inviato lo sconto regia inviate lo sconto eccolo perfetto la scheda physics invece cosa fa in generale allora la scheda physics verrà deprecata però in sostanza verrà serve per aggiungere le informazioni di di fisica all'ambiente con fisica intendo che il personaggio sbatte sopra i muri sostanzialmente quindi la parte di di fisica benissimo allora grazie mille a tutti e alla prossima grazie grazie